Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti per il ripristino urgente della pavimentazione tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sul raccordo Siena-Firenze per scambio di carreggiata dovuta a lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Tavarnelle e San Donato. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. La viabilità cittadina a Firenze sull'Ungarno Diaz fino all'11 giugno per lavori al Canale Chiesi sarà chiuso il tratto tra Piazza Mentana e Piazza dei Giudici. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!